Io penso che il messaggio che ha voluto trasmettere Lavinia con la collezione Age of Women sia un messaggio molto importante soprattutto per tutti noi in questo momento, che è quello della rinascita. E l'ha fatto attraverso l'arte, attraverso l'arte della moda, del cinema e della danza che sono sempre poi connesse. Sono rimasta veramente incantata da questo spettacolo, da questa sfilata che in realtà è uno spettacolo. Sono sicura che sarà di buon auspicio perché in questo momento c'è veramente bisogno di credere ancora che ci sia qualcosa che può in qualche modo evolversi. Il mio legame con il brand Biagiotti è nato con una grande amicizia reciproca tra me e Lavinia. Ci siamo conosciute un po' di tempo fa e tra di noi è scattata subito la scintilla, un po' come in amore, una questione di chimica. Da allora non ci siamo mai separate e abbiamo deciso di collaborare insieme perché ci sono molte cose che ci uniscono proprio a livello di radici. Ci siamo sempre molto apprezzate e quindi è un legame che dura nel tempo e che si evolve sempre.